...dichiaro il voto di astensione del Movimento 5 Stelle a questo progetto di legge, di astensione... Prego, no, prego anche l'Aula di fare silenzio. Voce di astensione, dichiarazione di astensione del Movimento 5 Stelle. Niente, ci dispiace perché abbiamo sentito dire più volte che oggi siamo contro la grande distribuzione e dobbiamo valorizzare i nostri prodotti, invece si continua a portare gente dentro la grande distribuzione, perché a questo punto la gente andrà nella grande distribuzione a comprare questi prodotti, quando invece dovremmo lasciarli fuori e separarli. Purtroppo la partita non è una partita a calcio, ma fra una squadra che gioca a calcio e una squadra che gioca a palla a volo, perché questi sono due mondi che non possono incontrarsi. Quindi il nostro voto è di astensione per questo comma. Grazie.